Di solito è abituato a dargli i premi, questa volta ne ha ricevuto uno e è particolarmente gradito? Sì, ne ho ricevuto uno, l'ho detto prima, nel senso che io mi sono trovato a fare il sindaco in un momento storico complicato e più difficile del secondo dopoguerra, come tutte le persone premiate si sono ritrovate in un ruolo specifico e in un momento drammatico. È anche vero, e l'ho voluto sottolineare, come questo è un riconoscimento che va al sindaco, ma veramente in questo caso più che ogni altra volta, al sindaco come espressione di una comunità, perché questo è un premio che tutti i veronesi si sono meritati, perché i sacrifici che ognuno ha dovuto fare, penso alle mamme in smart working, con i bambini piccoli a casa da seguire, ai nostri ragazzi a casa da scuola che non potevano andare in presenza a giocare, a trovarsi con gli amici, alle persone anziane a casa da sole, tutti hanno fatto dei sacrifici e tutti sono stati chiamati senza volerlo a dover affrontare una situazione incredibile, ma grazie al comportamento di ognuno si è riusciti pian piano ad uscire. Non siamo ancora usciti definitivamente, ma sicuramente abbiamo fatto dei passaggi importanti per superare uno dei momenti più difficili della storia di questa città nel secondo dopoguerra.